Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato nel rione Zen 2 a Palermo che ha portato al sequestro di quantità consistenti di stupefacente e all'arresto di due spacciatori, Giuseppe Moceo di 47 anni e Gaetano Lomonaco di 33. Scoperti ben 27 pizzini nei quali veniva annotata la contabilità dello spaccio, ma non solo. Anche i quantitativi e i vari passaggi della preparazione dello stupefacente venivano riportati su piccoli fogli bianchi, rendendoli dei veri e propri mini ricettari della droga. Gli investigatori hanno compiuto diverse perquisizioni in tutto il quartiere, anche con l'ausilio di Canipoliziotto. Nell'abitazione di Moceo è stata trovata una chiave che consentiva di aprire la porta in ferro di un sottoscala dove erano occultati 14 grammi di eroina, un bilancino di precisione, foglietti di carta stagnola utilizzati per il confezionamento delle dosi e decine di bigliettini contenenti nominativi, importi e date, una sorta di libro mastro dello spaccio. A casa di Lomonaco sono state invece scoperte e sequestrate centinaia di dosi di marijuana e 19 stacche di ascisce nascoste in un armadio della stanza da letto e in un mobile della cucina. Intanto a Borgovecchio, sempre a Palermo, sono state sequestrate, in un'altra operazione delle forze dell'ordine, diverse armi da fuoco, rinvenute in mezzo a casse di carote. Subito scattate le manette per detenzione, porto abusivo d'armi per un 5-8enne, Domenico Farina pregiudicato. L'arresto d'opera dei falchi che hanno notato Farina a muoversi con fare circospetto e poi fuggire in scooter, da lì l'inseguimento e poi l'arresto con la scoperta successiva dell'arsenale.